Acrylike Miskie Ricopertura su unghia naturale Preparare l'unghia come di consueto, quindi opacizzare con una lima buffer mattoncino tutta la superficie dell'unghia. Togliere la polvere in eccesso della limatura, spolverando accuratamente con un pennello di pulitura. Applicare l'adesione GoGrip a strati sottili su tutta la superficie ungueale. Polimerizzare il lampada LED per 60 secondi Dopo la polimerizzazione, tamponare con un pad di cellulosa asciutto per eliminare l'eccesso della dispersione. Prelevare con l'apposita spatola Acrylike Shaper la quantità necessaria di prodotto Acrylike Cover Light Pink. Formare una pallina e posizionarla sull'unghia. Immergere il pennello nell'Acrylike Solution, scaricando eventuali eccessi di prodotto. Passaggio fondamentale, che consente alle setole del pennello di scivolare meglio sul prodotto. Modellare la pallina di Acrylike come l'acrilico, premendo e guidando delicatamente il prodotto con l'aiuto del pennello, partendo dalla zona cuticolare, fino a scivolare verso la punta. Il prodotto può essere modellato rispetto all'acrilico senza limiti di tempo in quanto necessita di catalizzazione. Il prodotto può essere modellato rispetto all'acrilico senza limiti di tempo in quanto necessità di avere un'acrilico senza limiti di tempo. Dopo aver modellato accuratamente il prodotto, polimerizzare il lampada LED per 60 secondi. Eliminare lo strato di dispersione con un pad imbevuto di cleaning. Modellare e dare forma all'unghia con una lima. Si procede limando gli assi laterali. Segue il margine distale, poi i lati superiori destro e sinistro, dall'esterno verso l'interno. Infine, armonizzare la superficie dell'unghia rispettando la curva C e l'architettura dell'unghia. Con un buffer, quindi, levigare e togliere i segni della lima. Con un pennello di pulitura, spolverare bene per eliminare la polvere in eccesso. Applicare il top nail gel sigillante extra brillante, facendo attenzione a non toccare le cuticole, stendendolo in modo più abbondante di uno smalto. Sigillare i laterali e la punta. Polimerizzare la lampada LED per 60 secondi. Togliere lo strato di dispersione con un pad imbevuto di cleaning. Applicare una goccia di nail almond oil, massaggiare e lucidare bene l'unghia. Togliere l'eccesso con un pad di cellulosa asciutto. Acrylike Miskie